Ciao a tutti e rieccoci qua. Bene, allora lei è Fefe e lui è Coco. Come sempre dobbiamo fare la intro della presentazione e oggi faremo un nuovo argomento molto interessante sullo shopping di Primark. Primark, poi ci saranno tante altre cose oltre la Primark visto che... Vediamo come si può intuire da un piccolo sacchetto che si vede nella videocamera della Tress. Tress, Tress, qualche l'è? Tress. Sì, vabbè, hai capito. Ok, Primark e... Telling whale. Telling whale. Bene, dunque. Iniziamo da più piccolo. Non saltate il video, guardate pezzo per pezzo, in quanto su giro sono stato presente anch'io, sono andato anch'io a comprare... Evento, evento, evento. Un po' di cose. Evento, evento. Oltretutto che lui ha avuto sia l'evento, evento. Sembra che dici evento. Grazie. Evento, evento, evento. Sì, non sarò il tuo vuole. Vabbè, è un evento perché tu ogni volta lui con lo shopping, infatti pioveva, fra un po' nevicava anche perché lui... Pioveva, ma dall'altra parte, essendo sabato, siamo andati abbastanza presto, c'era poca gente. Quindi io ero sereno. Non c'era così tanta poca gente. C'era... Potevi camminare. Potevi camminare. Non sembrava molto di formiche, là, che... Stavano... Ok, bene. Ma inizia il mondo. Inizia a prendere chi vuole. Allora... Stiamo in guai. Colate alla collina. Ho preso questa bellissima... Sì, ma li hai. Una camicia, amore. Hai di scatole. Una camicia? Sì. Non ti piace? Sì, è carina. A te piace. Bellissimo materiale. È morbido anche. Ok. Poi finisco la teleway. Poi... Cosa faccio? Il tres o...? Poi il tres, che è meno roba. Sì. Siccome io vado matta per... L'Adidas. Io sono presa questa del papà. Che a me non è che mi ispira molto. Ma io vado matta per l'Adidas, poi qui c'è ovviamente il terma, se riesco a farlo... In che? Sterma. Sterma. Sterma non è una parola... Oddio, che credina! Stekma. Stekma. Stem... Stemma. Vabbè. Il marchio. Il marchio. Non usa le parole che non conosci. Beh. Ok, c'è... Perché vuoi congnare così? C'è il simbolino del marchio. Ok. Dai, niente tu! Io per una cosa scicchiettosa non poteva mancarmi quanto... Qua è la Primark adesso, eh? Sì, qua è tutto Primark. Allora, io mi ero preso il mio, che è un power bank, praticamente è la batteria esterna per caricare i telefoni, i videocamere, quel che serve, quella portatile, che si usa parecchio. Sendo i telefoni di oggi dura poco la batteria, e... sì, principalmente l'avevo presa così, che è un po' un colore da donna, piaceva anche a lei, mi fa... me la prende anche a lei. Quindi ho preso questa, che alla fine è il suo, e vediamo se troviamo l'altra. Sì, è il suo, perché il mio è una roba così, il suo è un bianco perlato, un rosa perlato. Sì, è un bianco perlato, un bianco rosa, vedi che c'è anche un po' di rosa, cretino, e c'è anche un po' di... Oh, è anche carica, notare che è acceso, non so se si vede, sono già attive. Oh, c'è anche la torcia, ragazzi. Questa non la sapevo, puoi prenderla? Non lo so, è il chimico in moto, per esempio. Ma no? Allora, va bene, guarda le ciancere. Si scaricherà. Si scaricherà! Beh, dopo guarderemo le istruzioni, perché io l'ho presa e non so, non lo so. Qua ci vogliono gli occhiali 3D. Allora, tanto io continuo. Questo bellissimo porta trucchi, con su mini. Spento! Che ti ho fatto? Boh, se è spento il coso, visto che non carichi, dopo un po' si spegne, e poi ho fatto la torcia. Ah, si è spento anche il mio. Ah, ok. Ah, bene, stavo dicendo. Un po' porta trucchi. Questo porta trucchi della Minnie, che io amo Minnie. Poi, vai tu, facciamolo un po' un po', dai. Ah, no, 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 no. Dai, ci sta. Ok, questo non è mio. Della Princess? Pantalone pigiamino. Notare che qua c'è scritto Princess? Sì, solo là c'è scritto. Disney! No, no, non l'hai capita. È solo Princess perché c'è scritto qua. Basta. Non sei una principessa. Non fare quelle facce. Ma sei cretino? No. Non fanno meglio. Maglietta, con la stessa scritta. Sempre per questi bellissimi. Sì, va in abbinato. Abbinato. Dai, io ho aperto tutto per te. Lo smanicato che ho detto non è mio, è tutto qua. Il mio. Quanto stiamo arrivando? Forse arriva la primavera perché prima di cosa ci saranno 20 gradi, il sole che spaccare le pietre e poi un giorno è così. Il giorno dopo, non lo so, stiamo andando in giro con i pinguini e siamo oggi 16, 17, dovrebbe essere 18 oggi. 15 alla giovedì, 16 venerdì, 17, 18, siamo al 18 di marzo e fuori abbiamo 11 gradi al massimo e sta piorendo. Lo vuoi? Dai. Devo dire come... Vada alle ciance. Pijamino. Aprilo però, fai vedere com'è sto pijama. Black Panther. Sarà brutto, non lo so. Pantera, nera sarà Pantera, non lo so. Poi cercherò su Google il traduttore. No, perché... È della Marvel. È un nuovo cartone, penso non lo so. Comunque mi piaceva per il fatto dell'immagine. E che qui è, boh, come si può dire, velutato? Sì, velutato. Lo so. Ma boh, comunque è in rilievo. Bravo! Bravo! Qui è velutato. E boh, ma io vado matto per sempre così. Il pantalone è semplicissimo. Il pantalone è solo stampato la scritta, non è salutato. Però, a me è piacere. Dove? Questo è il mio, ovviamente. Con il suo papelino, giusto? Sì. E i glitter. E i glitter. Insieme. Se lo trovo. Hai sei pantaloncini. Azzurri. Azzurri. Sì. È sicura? Sì. Era così. Sì, beh, c'è il fiocco lì, la... Una storia un po' rosa sarà quella. Che ne avevi preso più di uno, così. Aspetta, che tocca a me. Hai ragione lì, hai ragione lì. Magliettina. Da ganzo. Lo so, mi piaceva questi rettangoli qua, sfumati con il grigio e il bianco. E boh, era lì appesa, da lontano l'ho vista, mi ha attirato. Che questa ha pagato una sciocchezza, 8 euro. Sì, anche comunque questi pigiami non è che sono costati... Sì, comunque i prezzi sono... Sono buonissimi i prezzi. Ottimi, buonissimi. Sono buonissimi, nel senso che sono ottimi. Sono buoni, buon prezzo, un ottimo prezzo. Si dice così, un buonissimo prezzo. Sì, sembra che mi mangi, va. Sì, va beh, dai, mangia. Siccome il signorino qua, l'orso polare, è goloso, si prese il bubble. Qui c'è le bolle giganti. Dai, prendiamo. No, adesso niente, dai, punti via, poi il dentista mi chiamano. Poi, altro pigiamino. Tamburino. Sì, tamburino. Diamo un tamburino. Ok, ecco qua il coniglietto. Il coniglietto di chi? Vediamo se lo so. Non lo so, tamburino. Non lo so. Non lo so. Bambi. Bambi. Ok, io non guardo queste cose. Buamini. Beh, buamini. L'altro pigiama suo. Ecco su, le Mocotion. Le Motion. Le Motion, le Mocotion, le Mocotion, le Mocotion, le Mocotion. Le Mocotion si scrive. Le Mocotion si scrive. Le Mocotion si scrive. Le Mocotion. Allora, vabbè, qui si è ne ha fatto avancini, che sono romani. e la maglietta che è simpatica mi piaceva per questa sbavatura qua uno non sapevi neanche chi c'è da qui no l'ho vista c'è la forma dove è aperta ah questo qua è vero c'è ragione qui c'era l'immaginetta anche se era piegato si vedeva che sbavava colava come volete voi carina però dai ok vabbè adesso chiamo fuori due cose intanto posso darti questa categoria smutandissime super mario e queste sono normali militari in quanto sono pieno adesso di calze ma le mutande stanno un po' diminuendo qualcuno le mangia non lo so spalendo non le mangi più faccio le salate di mutande non è bene pezzini in queste ti vedi anche al buio mi vedranno tutte al buio vabbè ora ti voglio la cosa scicchiatosa non sono comodi eh tadaaa costumino fluo con su le palme si le palme perchè è fluo trasparente quindi dietro di noi al mare si vedranno le palme ah ok giusto quello che vuoi si hai capito eh oh tu com'è eh eh sì no sto guardando io finito di poco visto che tu hai finito vedi a far vedere che cos'è ti passo questo ce l'ho ancora un pezzo dai ce l'ho ancora un pezzo si fai così così e insieme a una maglietta che c'è qua per mia che banda anche questa è una cosa divertente sono i glitterissimi spero si notino in telecamera ma ne dubito un pochino ma c'è questo fabolus and I know it non lo so non lo so l'inglese non mi chiedere due o tre cose in inglese vabbè è fighissimo cavetto usb che carica sia l'iphone e sia i samsung poi altri altri telefoni infatti l'iphone perchè l'iphone c'è la sua invece i samsung diciamo in genere gli android in teoria si anche i non tutti perché guardavo quello di mio padre non ha l'attacco più grande vuole un altro tipo di attacco io i nomi non li so e non mi informo molto e la cosa fighissima è il colore qua come il caricabatterie portatile che fa pandan pandan si pandan c'è ancora terra no e per finire dei jeans buono degli shorts shorts tre quarti tre quarti sono quelli che sono di acqua in casa no i pantaloncini ragazzi si sembrano pantaloncini si perchè ti arrivano qua qua è un sacchetto un altro sacchetto vuoti e basta che si può fare da cartoncino vediamoci come stai bene posso andare a lavorare dentro possiamo mettere il nostro cane in dentro si si torci per me ci sta il cane che sta tornando asciugli il beato poi via qua vai a rompere le scatole lo devi comprare quel biscotto un'altra volta perchè non vuole farsi vedere allora quando non ci stiamo in ripresa è sempre in mezzo alle scatole che passa non si sente non si nota che è un topolino però è sempre in mezzo alle scatole e quando lo vogliamo riprendere che lo chiamiamo come magari qualcuno ha visto un video di di slime che abbiamo fatto insieme cioè l'inizio qualche frazione di secondo anche un vlog quando abbiamo fatto il vlog il nostro primo vlog ma non volevamo sforzarla e constringerla quindi se lei vuole starla e si fa filmare altrimenti ciao arrivederci prima o poi che inizieremo un po' a uscire a fare video anche magari fuori speriamo in estate speriamo che è che è un bel scatole quando stiamo filmando ok dai tanto abbiamo finito è nulla è nulla ringraziamo per la visione ciao ciao salve anche fuori niente allora il video ragazzi finisce qui il video ragazzi finisce qui fa la serie no seriamente perché abbiamo finito abbiamo visto le nostre cose dai si spontaneo sono spontaneo ti sto spiegando guarda i miei cazzini vedi li hai messi pure male no brava c'era l'ombreggiatura sembrava che ti penzolasse quando faccio così no lasciamo stare il mio piedino piccolo piccolo ok dai salutiamo adesso picchio qualcuno un altro messaggio mi chiamo e mi mando non fateci casa non fateci casa ogni tanto qui il mio telefono sembra come o ci cerca nessuno o si svegliano tutti dalla mattina alla sera anche ieri dovevamo uscire fare colazione prendere le macchine organizzarci andare e quant'altro nessuno ci calcolava da mesi sono partiti tutti stasera ci siete stasera facciamo questo stasera andiamo l'acqua stasera sei calmo sono già organizzato sei calmo niente dai basta salutiamo grazie per la visualizzazione spero che il video vi sia piaciuto speriamo anche in qualche like mi raccomando sui pollicioni fate iscrizioni condividete il video spero vi divertiate anche se l'ho già detto io lo ripeto perché il nostro obiettivo è quello fare divertire la gente e fargli vedere un po' della nostra vita un po' della vita e poi dirite più un altro messaggio un altro messaggio ci vediamo alla prossima con il nostro nuovo video e un bacione un saluto a tutti quanti da Fefe un saluto da Fefe un saluto un saluto un saluto da Fefe e e Cocò grazie un po' più di spirito e da su via filonita del naso ciao a tutti e alla prossima un bacione ciao a tutti ciao ciao